Benvenuto sul mio canale, benvenuta, il mio nome è Marcello Secco, faccio questi video perché sono appassionato di moto, quindi in questo canale parliamo di moto. E se come me sei appassionato, appassionato, ti esorto a iscriverti al canale e attivare la campanella proprio perché pubblico un video al giorno così sarai sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Oggi su richiesta dell'amico Giuseppe voglio parlarti di Voge Valico 525 DSX del 2023. Questa moto è stata presentata al Salone EICMA 2022 a novembre a Milano, da qualche giorno, ed è una moto sicuramente interessante. Quindi anzitutto la Voge, un'azienda cinese, ha presentato questo aggiornamento della Voge 500 con diverse modifiche e una di queste, intanto, anzitutto vediamo la moto qui in questa bella immagine, una, dicevo, di queste modifiche è la presenza del motore nuovo che è passato quindi da una cilindrata di 471 a 494 cm3, per essere precisi, ed ha inoltre due mappe di erogazione, una mappa Eco e una mappa Sport. L'ABS poi può essere escluso sulla ruota posteriore così come il controllo di trazione. Il nuovo motore, quindi con l'aumento della cilindrata, ha visto un aumento della coppia che arriva a 50,5 Nm a 7.000 giri al minuto, mentre è stata contenuta la potenza, rispetto alla versione in vendita in Cina, che rimane appunto di 47,6 CV, cioè 35 kW, per rientrare nei limiti d'uso dei possessori della patente A2. Cambia l'estetica, che vedete più dinamica, moderna, importante nei volumi, una moto apparentemente che ha dei volumi, dei grandi volumi insomma, e che vede poi l'arrivo del parafango alto a becco, molto bello secondo me, esteticamente molto gradevole, anche per il cupolino che si integra bene con le sue linee. Il cupolino è regolabile in altezza, i fari sono full LED e di nuovo anche la strumentazione LCD a colori da 7 pollici. Le ruote sono a raggi, vediamo bene nell'immagine, tra l'altro un bel colore oro, e l'anteriore da 19 pollici e il posteriore 17 pollici, il diametro, le sospensioni sono della Kibbe, l'escursione della ruota, quindi anteriore, vedete, a steli rovesciati la forcella di 145 mm, 155 mm al posteriore. Poi l'impianto frenante a triplo disco da 298 i due dischi anteriori e invece con le pinze della Nissin, quindi un bel impianto sicuramente. La sella poi ha un'altezza da terra di 830 mm, il peso vuoto dichiarato è di 190 kg, poi la capacità del serbatoio di 18 litri e la vendita di questa moto direi molto interessante, molto gradevole, che ispira proprio all'avventura, è prevista per il mese di luglio del prossimo anno. Bene, quindi se ti è piaciuto metti un like, se non ti è piaciuto metti un dislike, iscriviti al canale, attiva la campanella così sei sempre aggiornato, aggiornato qui sotto, se mi iscrivi le moto che vuoi vedere o commenti, per me è sempre un piacere leggervi. Grazie mille, ciao e buona giornata.